volata perfetta di jacob maresco nella quinta tappa del giro di turchia 2016 il giovane talento bresciano della south east venezuela è riuscito a prendere molto bene la ruota di sascia modulo lo ha saltato agevolmente ed è andata a conquistare il successo battendo niente po po di meno che andrei greipel mentre al terzo posto è giunto il compagno di squadra manuel belletti quarta posizione per matteo maluccelli della unieuro e alle sue spalle daniele colli non cambia la classifica generale con peio bilbao che resta saldamente al comando grazie a tutti